ciao a tutti benvenuti dal vostro andrea al matematico oggi cerchiamo di rispondere a questa domanda perché il prezzo delle case in affitto al mare sale durante il periodo estivo ma soprattutto è vero e cerchiamo di trovare un modello economico per poterlo analizzare per poter fare queste indagini sono andato sul sito booking.com e ho cercato praticamente di prenotare diciamo degli appartamenti in affitti quindi ordinati per prezzo nella città di genova quindi una tipica cittadina sul mare ho raccolto quindi i dati praticamente delle prime sette case in ordine di prezzo quindi dal più basso al più alto qui nel periodo di aprile 2021 quindi per il futuro maggio 2021 giugno 2021 e così fino al settembre del 2021 quindi ho riportato quindi a mano questi dati su excel e poi sono andato praticamente a calcolare i valori medi di questi dati quindi chiaramente era proprio come avevamo previsto nel nostro modello cioè si è passati dai 978 euro di aprile ai 1044 di luglio fino ai 1064 di agosto per poi riscendere nel periodo di settembre a 1011 euro ho riportato poi i dati su questo grafico quindi sembrerebbe proprio che da aprile ad agosto quindi mediamente il prezzo delle case appunto tenda a salire ma che è una cosa anche logica perché se andate in vacanza d'estate chiaramente ad agosto non è come andare a settembre oppure ad aprile adesso cerchiamo quindi di capire uno schema economico quindi di presentare uno schema economico che ci faccia capire il perché di questo aumento o che tenda comunque a spiegarlo usiamo quindi il nostro solito schema dalla microeconomia dove andiamo a mettere sull'asse delle ascisse quindi sull'asse delle x la quantità di case in affitto e sull'asse delle y il livello dei prezzi chiaramente coloro che danno in affitto quindi io li chiamati produttori in realtà sono le persone che danno in affitto queste case costituiscono l'offerta quindi sostanzialmente queste tenderanno a dare più case in affitto maggiore quindi sarà il prezzo quindi saranno incentivati quindi a fare questo investimento in case d'acquisto più alto sarà il prezzo mentre per quanto riguarda il consumatore i consumatori nel loro insieme tenderanno quindi ad acquistare una quantità di un certo bene in questo caso sono le case in affitto maggiore pagandola o volendola pagare un prezzo minore oppure a un prezzo minore saranno disposti ad acquistare una quantità di case maggiori quindi chiaramente nel mercato l'intersezione tra quello che rappresentano quindi i produttori quindi coloro che danno le case in affitto e quelli che rappresentano i consumatori cioè coloro che ricevono le case in affitto determinerà quindi la quantità totale delle case in affitto affittate e il prezzo di equilibrio che quindi è determinato dall'offerta e dalla domanda nel periodo estivo che cosa succede quindi nel periodo estivo la gente vuole andare al mare e quindi comincia a domandare più case sostanzialmente l'offerta la possiamo considerare stabile mentre quella che aumenta è semplicemente la domanda quindi lo spostamento verso destra della curva di domanda fa cadere il punto di equilibrio in corrispondenza quindi di una quantità di case affittate maggiore e chiaramente questo aumenterà anche il prezzo è un po' come se quelli che chiedono la casa al mare facessero concorrenza tra di loro cercando quindi di alzare il prezzo fino a poter quindi affittare questa casa benissimo cari amici quindi anche questo video è finito mi raccomando ascoltate bene quello che ho da dirvi in questo momento se il video ti è piaciuto ricorda di lasciare un like iscriviti al canale youtube per restare sempre aggiornato su tutte le novità e visita inoltre il sito www.andrealmatematico.it vai nella sezione corsi e scegli il corso più adatto a te adesso ho prodotto corsi per studenti universitari quindi abbiamo il corso di matematica due corsi di finanza uno sugli esercizi di prove vecchie uno proprio che fa vedere bene teorie ed esercizi è il corso di matematica finanziaria vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo alla prossima puntata con andrea il matematico ciao 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 ciao